Confindustria premia i giovani studenti universitari che si sono contraddistinti in un project work particolarmente innovativo. Imprese in accademia, il percorso formativo ideato dal gruppo giovani imprenditori di Confindustria Chieti Pescara è la sua dodicesima edizione. È un'occasione preziosa per sviluppare il territorio, i talenti ma più in generale chi è motivato a far crescere le nostre imprese. Dal punto di vista di noi imprenditori, ulteriormente una preziosa occasione per conoscere questi giovani, metterci reciprocamente alla prova, dargli delle linee guida non troppo specifiche perché poi è importante che loro con la loro creatività, la loro determinazione e la capacità innovativa riescano a trasformare queste linee guida in un progetto e credo che sia il segreto per il rilancio dei nostri territori sui mercati internazionali. Questa mattina è stata presentata l'etichetta edizione limitata che Cantina Zaccagnini ogni anno dedica al progetto. I vincitori per il miglior project work sviluppato in azienda a cui va anche il premio speciale Top Solution sono Federico Bonetti del DE e Marco Lanciere di Lingue per l'Impresa e la Cooperazione Internazionale. Il loro lavoro dal titolo IMED è stato sviluppato presso l'azienda Monte Ferrante. È una start-up che va a operare nel sistema sanitario portando un aggiornamento del sistema quindi agenda soprattutto su quelli che sono i fattori della digital transformation e quindi attraverso dei dispositivi adatti, in particolare quelli che rientrano nella gamma dell'IoHT sarebbe Internet of Health Things e attraverso dei sistemi di gestione e analisi dei dati che possono portare quindi a un incremento dell'efficienza delle strutture sanitarie. Due le squadre classificate al secondo e terzo posto, Gaia D'Averio, De Luda, Alessandro Piccoli e Ilaria Cappaldi del DE hanno sviluppato in Veritplast un bilancio dell'azienda che mette in luce l'impegno costante e lungimirante sui temi del sociale, della governance e dell'ambiente. Federica D'Andrea, della Luis, Ilisa, Madri Nico e Stefano Pastorino del DE hanno elaborato un progetto in sinergia con l'azienda Mario De Cecco che sviluppa un nuovo modello di relazione con i clienti. Tutti i ragazzi ci hanno stupito perché i loro elaborati sono stati davvero importanti su tutti e tre questi contenuti quindi hanno portato innovazione, hanno risolto i problemi posti dalle aziende ospitanti e si sono distinti appunto per il come ce lo hanno raccontato.